Buonasera a tutti, vi do il benvenuto al webinar Simri sull'immunofisopatologia dell'asma grave in età pediatrica presentato dalla professoressa Amelia Licari dell'Università di Pavia della struttura complessa di pediatria della Fondazione IRCCS del Polioclinico San Matteo. Buonasera professoressa e benvenuta. Buonasera a tutti. Prima di iniziare questo webinar, permettetemi di ringraziare Simri per l'invito, il presidente, tutto il comitato direttivo e grazie per avermi coinvolto. L'argomento della lezione è cercare di capire quali sono i meccanismi immunofisiopatologici dell'asma grave che caratterizzano l'età pediatrica. Inizio con una piccola premessa appunto dicendo che l'asma è definita attualmente anche dalle ultime linee guida come una malattia eterogenea caratterizzata quindi da infiammazione cronica delle vie aeree. Dal punto di vista clinico come sapete è definita da una storia di sintomi respiratori quali respiro sibilante, respiro corto, senso di costrizione toracica e tosse che variano nel tempo e in intensità e che sono generalmente associati ad una limitazione al flusso aereo in fase espiratoria che è variabile quindi reversibile o spontaneamente o dopo appropriata terapia. In età pediatrica l'asma è eterogeneo perché di fatto le manifestazioni cliniche possono dipendere dall'età del soggetto, possono avere una variabilità anche in base ai fattori scatenanti, in base alla gravità della patologia e al grado di controllo dell'asma, ovvero il livello al quale i sintomi clinici sono ridotti o completamente azzerati dalla terapia. L'asma ad oggi è una delle malattie croniche più frequenti dell'infanzia, si stima che ne siano affetti circa 7 milioni di bambini in tutto il mondo e che almeno un bambino su tre presenta un episodio di respiro civilante nei primi tre anni di vita. Di fatto gli obiettivi a lungo termine del trattamento dell'asma sono quelli di ottenere e mantenere un completo controllo della patologia, quindi assenza di sintomi diurni e notturni, nessuna necessità di ricorrere ai broncodilatatori a breve durata d'azione, nessun attacco acuto, nessuna limitazione alle normali attività quotidiane, compreso l'esercizio fisico, una normale funzione polmonare è ridurre insomma al minimo gli effetti avversi legati all'utilizzo dei farmaci. L'altro obiettivo è quello di ridurre il rischio degli attacchi acuti perché, come sapete, numerosi attacchi acuti possono anche portare a un esito in fausto, quindi di fatto questi sono gli obiettivi che noi ci proponiamo quando trattiamo un paziente con asma. La maggior parte dei pazienti ovviamente risponde a una buona risposta alla terapia anti-asmatica convenzionale, ma esiste una piccola quota però significativa appunto di pazienti che invece continua a presentare sintomi persistenti, difficilmente controllabili, continua a presentare attacchi acuti nonostante le alte dosi di terapia soprattutto inalatoria e a volte anche terapia steroidea per via orale. Questi di fatto sono i pazienti affetti da asma grave secondo le più recenti definizioni. La buona notizia appunto è che l'asma grave è una condizione rara, le ultime stime più aggiornate che provengono dagli studi dei registri sostanzialmente dell'asma grave ci dicono che l'asma grave è sotto al 2% rispetto a tutti i pazienti con asma e dello 0,5% se consideriamo invece la popolazione generale. Sempre dai registri internazionali dedicati all'asma grave, in particolare dai due principali registri che sono quello americano, SARP, e quello europeo, U-BioPred, emergono anche dei nuovi dati epidemiologici riguarda l'età media ad esempio dei pazienti affetti da asma grave che si aggira all'incirca attorno agli 11-12 anni e a una prevalenza lieve del sesso maschile. Non ci sono per il momento delle sostanziali differenze tra le diverse etnie e di fatto non ci sono variazioni sostanziali da questo punto di vista. Questi pazienti sono pochi, è vero, però a causa della gravità della malattia, a causa dei numerosi attacchi acuti soprattutto, hanno dei problemi nello svolgimento delle normali attività quotidiane, hanno una bassa qualità di vita, hanno problemi scolastici, sono spesso assenti da scuola e sono dei pazienti che di fatto sono anche più fragili dal punto di vista neuropsicologico rispetto ai bambini che invece hanno un asma lieve o moderato. E questa è una realtà che abbiamo visto anche noi in Italia attraverso i risultati del gruppo di studio dedicato all'asma grave della nostra società. Inoltre ai pazienti con asma grave è di fatto imputabile un impatto socio-economico di dimensioni rilevanti perché appunto è stato stimato che all'asma grave viene attribuito il consumo del 30 fino al 50% delle risorse sanitarie destinate alla gestione dell'asma in generale e che anche i costi indiretti, quindi quelli legati ai giorni di assenza scolastica, ai giorni di assenza lavorativa dei genitori di questi pazienti, sono molto alti e risultano addirittura quasi pari al 50% della spesa totale. Detto questo passiamo alla gestione di questi pazienti. Questi pazienti richiedono un inquadramento multidisciplinare che prevede diversi step. Il primo step ha al primo step deve essere confermata la diagnosi di asma, ovvero devono essere escluse tutte quelle condizioni patologiche che entrano in diagnosi differenziale con l'asma grave, tra cui come vedete dalla tabella ad esempio la fibrosi cistica, la discinesia ciliare o gli anelli vascolari, la tracheobroncomalacia e così via. L'inquadramento multidisciplinare viene fatto attraverso tutta una serie di esami che sono ormai codificati nella pratica clinica e quindi comprendono una valutazione pneumologica con la spirometria, l'esecuzione del test di broncodilatazione, l'inquadramento allergologico, l'esecuzione di esami radiodiagnostici come la radiografia, come l'attack del torace ad alta risoluzione e tutta una serie di esami che ci permettono di escludere le patologie che mimano l'asma grave, come il test del sudore, l'analisi genetica per la fibroticistica, il dosaggio dell'ossidio nitrico nasale e le biopsie e gli esami sulla funzionalità delle ciglia dell'apparato respiratorio, le indagini immunologiche che ci permettono di escludere alcuni tipi di immunodeficienze che possono manifestarsi con sintomi respiratori fino ad arrivare poi alle metodiche diagnostiche che poi vedremo ci hanno permesso di capire meglio qual è la fisiopatologia, l'immunofisiopatologia dell'asma grave e quali la broncoscopia con l'esecuzione del lavaggio bronco alveolare. Il secondo step prevede la valutazione di tutti quei fattori, questo è molto importante, che possono portare ad uno scarso controllo dell'asma, in particolare l'esclusione di quelle che sono le comorbidità dei pazienti con asma grave, in particolare quelle a carico delle alte via aeree, quali la rinite allergica, la rinosinosite cronica con o senza poliposi nasale e i disturbi funzionali del respiro come la vocal core dysfunction, ma anche altri disturbi associati come disturbi di tipo neuropsicologico, ancora una volta, l'obesità che possono complicare la gestione dell'asma in età pediatrica. E sempre nello stesso momento, oltre alla valutazione delle comorbidità, è fondamentale valutare l'aderenza terapeutica, che è un altro momento importante della gestione di questi pazienti, perché nella maggior parte dei casi ci si accorge che appunto nel 50% dei pazienti quasi c'è un incompleto controllo legato ad una ridotta aderenza o a una errata tecnica inalatoria. Infine, i pazienti con sospetto asma grave, comunque con asma difficile da trattare, devono essere caratterizzati, caratterizzati in base al fenotipo sicuramente clinico, ma anche al fenotipo infiammatorio, ovvero il cosiddetto endotipo, ovvero bisogna caratterizzare questi pazienti sulla base dei meccanismi che sostengono l'infiammazione bronchiale. E tutto questo è proprio mirato a, diciamo, ottenere una via per una terapia personalizzata. Sulla base dei dati sempre ottenuti dai registri per l'asma grave, questo è molto importante, sono stati caratterizzati questi pazienti. Questi pazienti sono stati caratterizzati sulla base delle caratteristiche cliniche, vedete la durata dei sintomi, l'utilizzo di risorse sanitarie, la funzione polmonare, i fattori scatenanti, la frequenza degli attacchi acuti, la sensibilizzazione allergica, la risposta al trattamento. E quindi queste caratteristiche insieme costituiscono quelle che sono le manifestazioni osservabili della patologia, ovvero il cosiddetto fenotipo. E quindi sulla base di questi dati, in particolare nell'ambito dell'asma ad esordio precoce, quello tipico dell'età pediatrica, la maggior parte dei pazienti con asma grave presenta una spiccata sensibilizzazione ai comuni allergeni respiratori, quindi allergeni perenni come acari e micofiti. Una normale funzione respiratoria e ha, nella maggior parte dei casi, associato delle comorbidità, principalmente una malattia rinosinosale, l'obesità e il reflusso gastroesofageo. Questi bambini presentano una normale funzionalità respiratoria con un'ostruzione al flusso aereo che è tipicamente reversibile. Una minoranza invece di pazienti che vedete nel quadro verde presenta invece un'ostruzione bronchiale che è parzialmente reversibile, non ha un profilo di comorbidità importante ed è generalmente un gruppo di pazienti che è esposto, si trova esposto al fumo passivo. Esiste poi un altro piccolo gruppo di pazienti con asma grave e esordio precoce che non ha sensibilizzazioni allergiche e che invece presenta un declino precoce della funzionalità polmonare. Questa classificazione fenotipica è molto importante, ci consente di inquadrare alcuni dei nostri pazienti, quasi la maggior parte dei nostri pazienti anche nella nostra pratica, però non ci consente da sola di selezionare questi pazienti per una terapia biologica mirata e non ci consente neanche di predire l'efficacia di questa terapia biologica, per cui è proprio la necessità di comprendere quali sono i meccanismi cellulari e molecolari dell'asma grave che ha portato a ottimizzare poi l'approccio terapeutico. Quello che si fa adesso è quindi l'endotipizzazione, ovvero la caratterizzazione di quelle che sono le due componenti immunofisiofatologiche dell'asma grave, ovvero l'infiammazione da un lato e il rimodellamento brocchiale dall'altro. Questa caratterizzazione può essere fatta in modo diretto e questo lo vedremo tra poco nei diversi studi che ci hanno permesso di avere diciamo questo avanzamento di conoscenze che utilizzano l'endoscopia, l'esecuzione delle biopsie e l'analisi del liquido di lavaggio bronchiale per caratterizzare in modo diretto l'infiammazione bronchiale, oppure in modo non invasivo. Ci sono molti studi anche sui biomarcatori come ad esempio l'espettorato indotto, come la conta degli osinofili, dei neutrofili a livello sierico e il dosaggio dell'ossido nitrico esalato e anche altri biomarcatori come alcuni che sono stati più frequentemente studiati come ad esempio la periostina. Quindi per quanto riguarda la caratterizzazione dell'infiammazione bronchiale da sempre l'asma è stato definito come un disordine a prevalente componente immunologica di tipo TH2, quindi sostenuto dalle inferleuchine 4, 5 e 13. Recenti studi appunto che però sono stati seguiti proprio su bambini e adolescenti affetti da asma grave e che sono stati sottoposti a endoscopia bronchiale con analisi del liquido di lavaggio bronchialiolare hanno dimostrato come è possibile riconoscere due principali endotipi infiammatori, il cosiddetto tipo 2 o T2 high e il T2 low o non tipo 2. Entrambi questi endotipi sono classificabili in base al tipo di infiammazione, il tipo 2 in eosinofilica, allergica e non allergica, il non tipo 2 in infiammazione a prevalenza neutrofilica, mista e pauci granulocitica. Questo è proprio uno studio che ha preso in considerazione i pazienti con asma grave, quindi entriamo già nella caratterizzazione diretta dell'infiammazione. Nel modello cosiddetto T2 high, quindi nell'asma di tipo 2, i principali drivers dell'infiammazione osinofila sono rappresentati dai linfociti TH2 ma anche da un'altra componente cellulare che appartiene sempre ai linfociti ma che fa parte dell'immunità innata e non dell'immunità adattativa che sono le cellule innate linfoidi di tipo 2. La caratteristica di queste cellule che la differenza dei linfociti TH2 è il fatto che non posseggono dei recettori di riconoscimento per gli antigeni e quindi la loro attivazione è molto più rapida rispetto a quella dell'immunità adattativa e quindi dei linfociti TH2 e rispondono in modo veloce a stimoli provenienti dai tessuti. Questi stimoli sono generalmente stimoli di tipo citotinico che adesso poi vedremo. Quindi queste cellule di fatto orchestrano l'infiammazione nell'asma di tipo 2 attraverso diverse citotine. Le citotine prodotte sono l'interleotina 5 che dopo un legame con uno specifico recettore di fatto stimola la mobilizzazione midollare degli osinofili, ne aumenta il reclutamento a livello dei tessuti respiratori, dei tessuti bronchiali e ne aumenta anche la sopravvivenza a livello polmonare e a livello bronchiale. Gli osinofili attivati poi contribuiscono al danno dell'epitelio bronchiale attraverso il rilascio di proteine quali la proteina cationico-osinofila, la proteina basica maggiore e i cristalli di sciarcoleiden e vanno a danneggiare direttamente l'epitelio bronchiale. Inoltre sempre attraverso la secrezione di citotine e fattori di crescita tra cui anche il TGF-beta che è stato dimostrato soprattutto su modelli murini di asma, gli osinofili stessi contribuiscono ai processi di rimodellamento bronchiale andando a stimolare la deposizione di collagene e favorendo la metaflasia delle cellule caliciformi mucipare. Le stesse cellule però producono altre citotine che fanno sempre parte dell'infiammazione di tipo 2 che sono l'interleuchina A4 e l'interleuchina A13. Questi agiscono su un recettore che condivide una catena in comune, la cosiddetta catena alfa e hanno un'azione sinergica nella maggior parte dei casi. Entrambe promuovono lo switch isotipico sui linfociti B verso la produzione dell'AGE, quindi aumentano la produzione dell'AGE che poi sapete si leviano i recettori e di fatto scatenano le reazioni allergiche. Regolano anche l'infiammazione eosinofila perché di fatto aumentano l'espressione delle molecole di adesione a livello dei vasi della mucosa bronchiale, aumentano, favoriscono la formazione di infiltrati infiammatori cellulari per i vascolari, quindi reclutano ancora cellule infiammatorie e poi agiscono anche andando ad aumentare la produzione di muco da parte delle cellule caliciformi mucipare, inducono direttamente la contrazione delle cellule muscolari ghisce, inducono un'iperreattività bronchiale e aumentano l'espressione di collagene da parte dei fibroblasti, quindi si instaura un meccanismo, un circolo vizioso in cui all'infiammazione si sostituisce la riparazione tessutale e il rimodellamento che poi va avanti se appunto la patologia non è trattata. Nell'ambito di questo sistema le cellule TH2 che poi fanno parte di fatto dell'asma eosinofilico di natura allergica vengono attivate dagli allergeni che penetrano attraverso l'epitelio, l'epitelio bronchiale si attiva, ha una funzione essenziale nell'attivare le cellule TH2 ma anche le cellule innate linfoidi attraverso tutta una serie di citochine che vengono proprio prodotte dalle cellule epiteliali che sono l'interleuchina 33, l'interleuchina 25 e la linfopoietina timica stromale che sono le cosiddette alarmine. Queste citochine attivano direttamente le cellule innate linfoidi, attivano direttamente i linfociti TH2 ma attivano anche le cellule dendritiche che poi migrano nei linfonodi e vanno ulteriormente a espandere la popolazione TH2. Quindi questo è quello che succede nell'infiammazione eosinofila di tipo allergico che in fatto rappresenta l'endotipo di asma più frequente in età pediatrica nei pazienti con asma grave, essendo presente perlomeno fino ad ora dagli studi che abbiamo a disposizione fino quasi all'80% dei bambini affetto da asma grave. Ed è caratterizzato quindi da elevati livelli di IgE, da elevati livelli di osinofili che vengono reclutati nei tessuti ma che troviamo anche a livello osierico e da elevati livelli di ossido nitrico esalato che poi riflettono di fatto l'infiammazione eosinofila. Quindi nell'ambito di questo endotipo abbiamo dei biomarcatori non invasivi che sono di fatto utili per individuare questi pazienti. Nell'ambito sempre dell'asma di tipo 2 abbiamo anche l'asma non allergico e osinofilico non allergico. Questo tipo di infiammazione è orchestrata prevalentemente dalle cellule innate linfoidi tipo 2 ed è attivata come vedete da virus, batteri, dal fumo passivo, da altri agenti irritanti. Quindi è tutta una serie di segnali che attraverso le cellule epiteliali e sempre attraverso la produzione dell'interleuchina 33-25 e della linfopoglietina timica stromale attivano subito queste cellule. Di fatto questo tipo di infiammazione vede poi a valle gli stessi meccanismi che abbiamo descritto in precedenza. Le cellule innate linfoidi sono state proprio dimostrate in elevata quantità nei bambini che hanno questo tipo di asma, che sono sicuramente meno rispetto a quelli che hanno l'endotipo allergico, però esistono e sono sostanzialmente stati dimostrati sia sull'espettorato indotto sia a livello del lavaggio bronco alveolare. Più raro invece in età pediatrica, così come di fatto perlomeno fino ad ora sappiamo nell'adulto, è l'asma non di tipo 2, quindi caratterizzato essenzialmente da quella che è l'assenza dei biomarcatori che abbiamo visto di tipo 2, quindi da assenti osinofili, basse IGE e basso feno. Quello che si può dire per questo endotipo è che di fatto è caratterizzato da un'elevata neutrofilia che è stata riscontrata in questi soggetti facendo l'espettorato indotto, mentre in una piccola parte di soggetti che invece non hanno tanti neutrofili nell'espettorato, vi è invece una spiccata componente di iperreattività, quindi in assenza di infiltrato cellulare. Di fatto vengono distinti due principali sottotipi di asma non tipo 2 o T2 low, che sono il cosiddetto sottotipo neutrofilico, che si pensa che possa essere sostenuto dai linfociti TH17 e poi la forma cosiddetta paucigranulocitica. Per quanto riguarda il sottotipo neutrofilico, di fatto i linfociti TH17 hanno una funzione patogenetica importante che si sta iniziando un po' a capire anche adesso e che di fatto agiscono attraverso la produzione di alcune citrochine, che sono l'interleuchina 17 e l'interleuchina 22, che vanno ad agire sulle cellule epiteriali. Di fatto queste citrochine sulle cellule epiteriali da un lato aumentano il reclutamento dei neutrofili nelle vie aeree, dall'altro aumentano la produzione di muco, quindi di fatto determinano un substrato infiammatorio molto molto importante. Inoltre agiscono anche sui fibroblasti e sulle cellule muscolari lisce, andando a stimolarne la proliferazione e la sopravvivenza e quindi dando in là anche ai processi di rimodellamento delle vie aeree. In questo endotipo vi è un'aumentata produzione di interleuchina 17, che è stata dimostrata in questi soggetti e che di fatto contribuisce ad aumentare la resistenza agli steroidi che questi soggetti hanno ed è tipica a livello bronchiale, è una caratteristica tipica di questi pazienti che è associata all'infiammazione osinofila. Insieme a questa caratteristica vi è un'associazione quasi costante con la colonizzazione delle vie aeree da parte di alcuni batteri, quali hemofilus, pneumococco e moraxella. Questa colonizzazione batterica in alcuni soggetti, nella maggior parte dei soggetti, è associata ad una maggiore gravità dell'ostruzione, quindi ad un basso FV1. Questo però non è sempre vero, perché ci sono alcuni studi che sono stati proprio eseguiti su bambini affetti da asma grave, che dimostrano come un'elevata presenza di linfociti intraepiteliali, scusate, di neutrofili intraepiteliali, sia invece associata ad una funzione polmonare che non è peggiore, comunque è migliore rispetto a quelli che hanno dei bassi neutrofili. Quindi da questo punto di vista probabilmente andrà chiarito meglio qual è il ruolo dei neutrofili nell'ambito dei bambini con asma grave e anche nella patogenesi in generale dell'asma grave, perché il loro ruolo è piuttosto controverso. Queste cellule di fatto da un lato abbiamo visto come hanno una spiccata capacità pro-infiammatoria, sono in grado di determinare un danno tessutale diretto con la produzione di metalloproteinasi, serine proteasi, specie reattive dell'ossigeno, quindi hanno un'azione diretta, dannosa sulle vie aeree. Dall'altro però ci sono studi in cui si riconosce una capacità di tipo immunoregolatorio, perché hanno anche capacità di fagocitosi e di riparazione tessutale. Quindi questa è una domanda che dal punto di vista perlomeno patogenetico nell'ambito dell'asma rimane aperta, ed è abbastanza stimolante. Per quanto riguarda poi il sottotipo paucigranulocitico, che è quello caratterizzato da bassi infiltrati cellulari e da spiccata iperreattività dei bronchi, di fatto non si conoscono bene i meccanismi, non ci sono molti studi perché sono veramente pochissimi i pazienti, si pensa che possono essere implicati elevati livelli di stress ossidativo e alcune ipotesi più recenti ipotizzano un ruolo anche di alcuni recettori calciosensibili che sarebbero responsabili di una spiccata iperreattività dei bronchi. Questo è quello che conosciamo sulla prima componente immunopatologica dell'asma grave, che è l'infiammazione bronchiale. L'altra componente è il rimodellamento delle vie aeree, quindi l'alterazione della struttura della matrice extracellulare, che normalmente è responsabile della resistenza tessutale alla trazione, dell'elasticità delle vie aeree, che svolge comunque delle funzioni di barriera. E quindi a questa alterazione della matrice extracellulare è associata anche la proliferazione delle cellule muscolari lisce, è associata anche la metaplasia delle cellule calciformi mucipare e è associata l'aumentata produzione di muco, che di fatto riduce il calibro delle vie aeree, quindi può peggiorare l'ostruzione. Per quanto riguarda l'asma di tipo 2, il type 2 high, di fatto si pensa, l'ipotesi patogenetica principale sostiene che le alterazioni strutturali a carico della parete bronchiale che sostengono il rimodellamento siano una diretta conseguenza dell'infiammazione osinofila e questo è stato dimostrato in diversi studi. Nell'asma type 2 low, quindi nell'asma non di tipo 2, non abbiamo ancora le idee chiare, ma ci sono alcuni studi che ipotizzano che queste alterazioni strutturali bronchiali possono essere legate in primis a un difetto intrinseco di barriera oppure ad un insulto diretto a livello epiteliale. Entrambi questi tipi di difetti andrebbero a distruggere le giunzioni strette che legano le cellule epiteliali. La distruzione delle tight junction andrebbe sostanzialmente a determinare una produzione incontrollata di Tgf-beta, oltre ovviamente a allargare le maglie della barriera bronchiale e quindi a permettere l'ingresso degli allergeni e peggiorare l'infiammazione, comunque andrebbe a produrre una produzione, diciamo ad avere una produzione incontrollata di Tgf-beta che poi è alla base di quella che è la trasformazione fenotipica delle cellule epiteliali in cellule mesenchimali, quindi si andrebbe ad alterare proprio il fenotipo cellulare. Uno studio molto recente che è stato eseguito in soggetti asmatici sia adulti ma anche pediatrici che sono stati sottoposti a endoscopia bronchiale e che durante la procedura in seguito a biopsia è stata analizzata con una microscopia diretta, proprio la biopsia appunto dei bronchi, ha dimostrato come in questi soggetti affetti da asma grave, sia adulti che pediatrici, esiste un sovvertimento dell'architettura della matrice extracellulare. Quindi c'è una disorganizzazione completa delle fibre del collagene e si pensa che questo tipo di difetto sia legato proprio ad un difetto di proteine, di una proteina strutturale che è la decorina, una proteina dei fibroblasti e che di fatto sembrerebbe essere presente come difetto sia a livello delle grandi vie aeree sia a livello delle piccole vie, quindi sarebbe un difetto strutturale che potrebbe alla base essere utile per capire la patogenesi del rimodellamento bronchiale. Quindi sulla base di questa classificazione che ho esposto, grazie alle acquisizioni che sono state resenote nel tempo sulla patogenesi dell'asma grave, è possibile selezionare i pazienti o almeno alcuni di questi per le terapie biologiche innovative. Queste terapie sono rappresentate dall'anticorpo monoclonale anti-GE, dall'anticorpo antinterleuchina 5 e antinterleuchina 4 e 13 per l'asma di tipo 2, sia allergico che non allergico, mentre invece le opzioni terapeutiche per l'asma non tipo 2 sono attualmente molto molto limitate. Per l'asma grave di tipo 2 i monoclonali che sono proposti e approvati per l'età pediatrica sono l'anti-GE, che è disponibile per l'asma allergico grave a partire dai 6 anni, mentre nepolizumab e dupilumab, che sono rispettivamente l'antinterleuchina 5 e l'antinterleuchina 4, diretto contro il recettore di quella catena in comune dell'interleuchina 4 e 13, sono attualmente approvati da EMA a partire rispettivamente dai 6 anni e dai 12 anni, sempre per i pazienti con asma grave non controllato. La comprensione dei meccanismi immunofisiopatologici dell'asma grave ci permette di capire come funzionano questi biologici, ad esempio come funziona l'anti-GE o malizumab che si lega alle GE circolanti libere e attraverso un meccanismo di dauregolazione dei recettori espressi sulla superficie cellulare riduce il rilascio dei mediatori da parte di mastociti, basofili e di altre cellule infiammatorie e determina a lungo andare un effetto antinfiammatorio globale che poi clinicamente si traduce nella riduzione dei sintomi asmatici, nella riduzione spesso drastica degli attacchi acuti, in una riduzione conseguente anche dell'uso di steroidi orali e nelle dosi degli steroidi inalatorie e un miglioramento significativo anche della qualità di vita di questi bambini. All'azione del farmaco vengono anche ricondotte altre funzioni, ad esempio quella sostanzialmente protettiva nei confronti delle infezioni virali perché sembrerebbe che il blocco dei recettori ad alta affinità per le GE sulla superficie delle cellule dendritiche ne vada a ripristinare la loro capacità naturale di produrre interferone e questo sostanzialmente inibita in un microambiente allergico, quindi in presenza di elevati livelli di GE e l'altra potenziale funzione del farmaco sarebbe quella di inibire alcuni processi di rimodellamento andando a bloccare il legame delle GE con i recettori ad alta affinità che sono presenti anche sulle cellule muscolari di ISCE. Per il momento quest'ultima azione è dimostrata in alcuni studi con pochi soggetti però in età adulta. Queste evidenze sono state confermate da numerosi studi sia registrativi che osservazionali, tra cui anche quello appunto italiano che è stato coordinato dalla nostra università, in cui è dimostrato oltre ad una significativa riduzione degli attacchi acuti già dopo i primi sei mesi di terapia, anche uno risparmio nei corticosteroidi inalatori e un diavolo miglioramento della funzionalità respiratoria. Di questo farmaco si conoscono, diciamo abbiamo un'esperienza sia in letteratura che clinica maggiore rispetto agli altri, di fatto sono stati proposti alcuni biomarcatori, tra cui l'ossido nitrico esalato superiore a 20 parti per bilione, il livello degli osinofili sierici superiore a 260 cellule per microlitro e elevati livelli di periostina. Questi biomarcatori ci consentono in alcuni casi di avere, diciamo, di predire una risposta positiva, però sono diciamo stati estrapolati da studi eseguiti prevalentemente su adulti, solo alcuni di questi studi sono stati eseguiti sui bambini e anche le nuove linee guida aggiornate dell'ERS, della Società Europea di Malattie Respiratorie, propone appunto questi biomarcatori per il farmaco. Per quanto riguarda il profilo di sicurezza, abbiamo dei dati molto importanti anche per l'età pediatrica, possiamo affermare che di fatto ha un buon profilo, gli eventi avversi sono di tipo lieve o moderato e i più frequenti sono rappresentati da faringite, infezioni delle alte vie aeree e reazioni locali nel sito di infezione e in alcuni casi sono state segnalate anche un'aumentata suscettibilità alle infestazioni parassitarie. Per quanto tempo prolungare la terapia è ancora una domanda aperta e anche se in letteratura comunque sono presenti alcuni studi, tra cui questo che vi mostro, quello del gruppo francese che di fatto propone di continuare la terapia con anti-GE per almeno due anni consecutivi e di provare a sospenderla se il paziente presenta una situazione clinica stabile, quindi in assenza di attacchi acuti da almeno un anno e con una malattia allergica sottostante non attiva, ovvero definita da bassi livelli di sinofili ancora una volta e bassi livelli di ossidio nitrico esalato. Comunque proprio perché questa domanda di fatto ancora è aperta, non abbiamo una risposta, anche il nostro gruppo di studio appunto della società ha in corso uno studio che valuta l'efficacia clinica di omalizumab dopo la sua sospensione. Il progetto, molti di voi lo conoscono, si chiama Stop Omalizumab e ha come obiettivi oltre a valutare l'efficacia clinica dopo la sospensione del trattamento, valutare la qualità di vita dei pazienti, valutare la funzionalità respiratoria e si propone di individuare eventuali biomarcatori predittivi di riacutizzazioni asmatiche, sempre attraverso il dosaggio di esami che è possibile eseguire nella pratica clinica, quali l'emocromo, le gie totali e l'ossido nitrico. Per quanto riguarda gli altri monoclonali, soprattutto per quanto riguarda omalizumab, i dati relativi all'età pediatrica sono limitati alla popolazione di adolescenti che è stata reclutata nell'ambito degli studi registrativi, che è molto ridotta. È stato pubblicato recentemente uno studio di safety e di farmacocinetica e farmacodinamica eseguito in pazienti pediatrici affetti di asma grave di età compresa tra 6 e 11 anni e sulla base dei dati ottenuti da questo studio sono stati diciamo parzialmente estrapolati e confrontati, dati con quelli della popolazione appunto degli adolescenti e degli adulti, reclutata negli studi registrativi. Da questo confronto ne deriva comunque un buon profilo di efficacia sulla riduzione degli attacchi acuti, è un miglioramento del controllo dell'asma e di fatto si evince anche un buon profilo di sicurezza anche per l'età pediatrica con eventi avversi più frequenti rappresentati da cefalea e infezioni respiratorie. Questi risultati poi hanno portato all'approvazione del farmaco da parte di EMA a partire dai 6 anni ad un dosaggio di 40 mg sotto cute ogni 4 settimane mentre attualmente in Italia come sapete è rimborsabile solo a partire dai 18 anni a partire dal dosaggio di 100 mg. Anche per quanto riguarda il nuovo monoclonale anti-interleuchina 4 e 13 dupilumab che va proprio a bloccare in modo duplice la catena alfa del recettore in comune tra le due citochine, abbiamo dei dati che riguardano i pazienti pediatrici, pazienti soprattutto adolescenti che sono stati reclutati in numero questa volta più sostanzioso nell'ambito degli studi di fase 3 che di fatto ci confermano l'efficacia nel ridurre gli attacchi acuti, nel migliorare la funzione polmonare, nel migliorare il controllo dell'asma e nel migliorare anche le comorbidità associate in questi pazienti, in particolare la rinica allergica ma anche il miglioramento della dermatite atopica. Questo perché appunto il ruolo di queste due citochine è abbastanza pleiotropico e interviene nell'ambito dei meccanismi infiammatori di tipo 2 anche in altre patologie di tipo immunoallergico. Sono in corso per il dupilumab i trial dedicati specificamente all'età pediatrica di cui aspettiamo ovviamente i risultati ma sia per dupilumab che per nepolizumab non abbiamo al momento biomarcatori, non conosciamo l'efficacia e la sicurezza a lungo termine sulla popolazione pediatrica. Infine un'ultima riflessione, questa è l'ultima diapositiva. Mentre negli adulti abbiamo alcuni algoritmi diciamo pratici per la selezione dei biologici anche se non sono diciamo universalmente condivisi ma possono essere usati nella pratica clinica come quello che vi propongo della Società Europea di Malattie Respiratorie, questo non si può dire per i bambini. Per cui di fatto aspettiamo con ansia i risultati di alcuni studi molto importanti che sono appena partiti come quello inglese, il TREAT Trial che valuterà in modo comparativo l'efficacia di omalizumab e mepolizumab in aperto in una popolazione di pazienti pediatrici con asma grave resistente alla terapia. Ci aspettiamo che ovviamente nel prossimo futuro una più approfondita conoscenza dei meccanismi immunofisiopatologici dell'asma grave possa dare delle risposte alle tante domande ancora aperte per migliorare la gestione clinica e terapeutica di questi pazienti, in particolare che possa portare a delle terapie mirate che sono l'arma più innovativa a nostra disposizione, ricordando però che il loro utilizzo deve essere necessariamente supportato da evidenze forti di efficacia e soprattutto di sicurezza nella popolazione pediatrica. Grazie allora, saluto tutti, grazie per avermi ascoltato e grazie ancora a Simri per avermi invitato. Grazie a lei per averci dedicato il suo tempo e per la splendida presentazione, grazie mille e grazie a tutti per la partecipazione.